E' buono che ci sia un'attenzione sul tema finalmente dopo tanti anni. E' drammatico che si sia arrivati così tardi, i livelli di depoveramento, di impoverimento dei nostri corsi d'acqua, anche quelli più importanti, anche quelli che alimentano le nostre pianure granai, sono veramente importanti. Le piogge di questi giorni hanno portato a un regolamento che però non riesce assolutamente ad arrivare a colmare quelli che sono i nostri livelli rispetto agli anni precedenti. Quindi l'importante è che se ne parli, ma che si faccia anche si faccia in fretta. Quindi non è tanto la nomina del fantomatico commissario, ma è capire che il problema non si può assolutamente affrontare con degli interventi spot. Non è il discorso emergenziale che funziona, è affrontarlo a livello preventivo e infrastrutturale.